alì questo nostro ma e no ci hanno te due burro e come i nomi è un barile d'esplosivo è un merdoso del cazzo è il grosso ma la c minuscola dai va è passata nel buchino maro rimase lì per la partita ma parlava ma questa è la partita si è fatto prima no porca puttana aia no anche il mio non esplode e non si sa che c'è sotto lecce devi dire aerea il torio ti ha dichiarato dufresne clientele no che 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 ma infatti infatti devi usare i cosi doi usare i cosi no 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 vai dufresne non si è fatto così niente dai I'll get you Oh dear No ma anche Vincent Vega Ma che t'ha fatto poverino Il divino ausilio è morto Anche Giollino Anche porca puttana No ho solo la santa pietà No c'è anche la provvidenza Che chiacca Che chiacca Ho pagato l'olio alla macchina Ok grazie E tutti E' la dinamite Però sto muore Anche due o due Ma è che sta un po' dominando Sì Questo nostro Eh sì qui ci stava Questo nostro No no Ma perché voi avete la roba No No la domanda è perché voi avete tutte Non dove si è stronzo Attento a te n'imbarco Ma perché a me Nel senso ha uccidere Vincent Vega ragazzi mi prendo jolly pesto non c'è da fai mai lo sena non mi sfuggirai beccati questo BOOM! BITCH! Get out of the way, get out of the way mi ha fatto male tutto il mio pro sciso eh devi dichiarare eh vabbè l'ex la provo è lì ma non è semplice ma basta sparare a colombella invece che dritto per dritto eh già, forse non c'è nemmeno vento NO! no le granate non sono alte qui dal vento dai! li lascia la tre eeeh si ma come cazzo fai? la granata non ha tempo quindi finchè non si ferma NO SUFRIO! andai lui! ah no non esplode finchè ooooo questo è il bituperio della salva però eh si... no allora io sbagliato ho messo la granata sa ha huh 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 ha huh 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 uh 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 proponete fantastico potrò ne peggame delle conteúdo è tante evcidemi dufrASE hey vabbè v expansive nooo questo dinamismo è cazzo e non va a fare 100 ehi facciate povero B faccio io la prova la granata figa ci provi mette anche 5 sicuro eh pensiamo se cosenta sotto la palma invece no eh no eh no questo va sulla santa pietà no mamma morte te ne pentirai dai no no fai il macello mi fai il macello ho preso anche la cassa fai fai uno fai le palle fai le palle fatta stupida e lo so che veniva per oggi di questo nostro però spero spero un po' di comprensione io non uccido lui non ucciderebbe perché non puoi vabbè il prossimo turno non lo ucciderei ecco eh esatto il prossimo turno lo uccideresti non lo ucciderei eh direi che qui ti arriva un po' un dito no no che vabbè vabbè e questa è registrata ragazzi questo è il pain più grosso che non hai visto altra che le mie bombe no 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 ce l'ha anche lui beh ma c'è anche me così dai no no ma è porca troia paro traditore traditore no 2 2h viro sì sì è presto 4 sono morto io non posso non mi sfuggirai ciao ciao sei morto e sale ora si sono morto accidenti no 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 sale pochissimo eh si sale no meno in mano non faili di brutto no non fail no 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 poverone Sì! Vittoria! Destroi ed by the people. But destroy the... cosa?